Ancora un colpo di scena all'interno della giostra. Franco Scortecci ha ritirato infatti le dimissioni da presidente dell'istituzione presentate al sindaco Alessandro Ghinelli la scorsa settimana. Il primo cittadino aveva subito respinto le dimissioni, fissando un appuntamento con gli uffici per valutare ed analizzare i problemi di tipo organizzativo sollevati nella lettera di dimissioni presentata da Scortecci. Noi abbiamo condiviso un percorso insieme agli uffici di maggior coinvolgimento di tutto il CDA nelle scelte che vengono fatte via via nella vita della giostra, non soltanto sotto giostra ma anche abbondantemente prima. Quindi si è ristabilito e verrà anche un po' codificato un rapporto tra l'intero CDA e la parte operativa che poi è il direttore degli uffici comunali. Quindi un chiarimento, era necessario un chiarimento e un chiarimento è stato fatto. Con maggior coinvolgimento? Certamente, diciamo che molto spesso le decisioni e le azioni vengono dettate dalla fretta. Si arriva all'ultimo minuto e si deve comunque fare qualcosa, se no la giostra non si corre, quindi si fa e a volte è mancato il momento di condivisione con l'intero CDA. Abbiamo dato una lettura a quello che è avvenuto nel recente passato e preso delle determinazioni circa il fatto che in futuro si arriverà per tempo in modo tale che ci sia anche la possibilità di condividere. Torna dunque un presidente e si ferma invece solo per un turno il rettore. È Francesco Fracassi, timoniere di Porta del Foro, che è stato squalificato per un turno. Lo ha deciso la magistratura alla luce di quanto è successo a giugno. Non si conoscono ancora le motivazioni. Con le squalifiche ci sono stati anche altri provvedimenti. Restano fuori per un'edizione anche due figuranti di Porta Crucifera e uno di Santa Andrea. E proprio in Casa Biancoverde potrebbero esserci delle novità in arrivo per quanto riguarda il sostituto di Marco Fardelli, dimessosi nei giorni scorsi dal ruolo di capitano del quartiere. È in programma infatti per mercoledì sera una riunione del Consiglio.